Rinnovato per altri cinque anni l'accordo tra la Regione Marche e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'accordo riconferma il valore del supporto tecnico di soccorso alpino e speleologico garantito dal Corpo Nazionale ai professionisti del Servizio di Emergenza Sanitaria della Regione Marche per l'attuazione in ambiente impervio degli interventi di soccorso sanitario, di recupero e di trasporto mediante l'impiego di tecniche e attrezzature specifiche di donne. È un accordo quinquennale che dà qualità a struttura e rapporto che siamo pronti a rafforzare quando si partirà con l'elisoccorso H24 perché dovrà crescere chiaramente la reattività dell'intero sistema, 130 volontari che si adoperano fortemente per la salute dei marchigiani. Un accordo che complessivamente vale 1.350.000 euro ma che ci darà molta più serenità quando dovremo muoverci nelle parti più interne del nostro territorio quando un turista venendoci a trovare saprà di poter contare su servizi di qualità. Gli interventi per il 50% sono legati al turismo e al tempo libero ma non mancano chiamate anche da parte delle attività produttive. Sul territorio marchigiano sono presenti 5 stazioni alpine e una speleologica. Chi supporta il servizio sanitario per dare soccorso a chi si dovesse trovare in difficoltà durante un'escursione in mezzo a un bosco in una situazione lontana dalla viabilità principale avrà l'intervento del soccorso alpino coordinato in genere con l'elisoccorso secondo del livello di gravità e di necessità.